Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo questo video da una zona diversa da quella che siamo abitati a vedere nel mio video, ovvero da una bella stazione di servizio perché oggi stiamo andando a Latina a correre il circuito del Sagittario con le Ovale Siamo partiti da Roma circa un'ora fa, l'incontro con gli altri è prevista al circuito del Sagittario all'I5 e quindi spero comunque di arrivare in tempo con me è presente la mia Zavorlina, ci aggiorniamo l'ora appena arriviamo, ciao ciao Sto morendo Allora Antonio e Francesco qui, i quali sono le volte Chi siamo? Francesco la 5 e Antonio la 2 12 12 Sto già tutto sudato Scusa Oddio Un incubo Aiuto Sto morendo dal caldo Fa caldissimo Io non riesco a mettere i piedi sulle pedaline Andiamo? Aiuto Andiamo stanno in specchietto Aiuto Ricordati, guarda l'uscita della curva Che sfettavolo Dai, dai Aiuto Aiuto Fermo Vai, vai, vai L'uscita della curva Oh, oh, oh Ma ho superato Aiuto Mi sono venuto a per tutto A destra, a sinistra Aiuto Come fanno a correre questi AAAAAAAH AAAAAH Sì, io che voglio venire a correre in pista con la mia moto C'è una tatazza assurda Sì, io che voglio venire a correre in pista con la mia moto Di nuovo lunga l'ho presa Por una Oh ma io qua sto a correre da solo? Sì Vabbè tanto poi mi doppiano e quindi è come se sto in compagnia Qua ho grattato il piede Oh è di nuovo Passiamo a tre Oh qua la sbaglio sempre Ora prendiamola per bene questa Beh meglio di prima dai oh Non mi ricordo che devo fare in caso di bandiera a scacchi ragazzi Ok bisogna entrare meno male che quello mi ha superato Vai Oddio ragazzi che bello Ora abbiamo finito le qualifiche Sicuramente sono arrivato ultimo Però mi sono divertito un casino eh Quindi che ne pensi tu di questa gara? Io sono ultra soddisfatto Hai fatto i tempi adesso? Sì Ecco qua Ok Oh sì quinto sono Spettacolo Penso Però ho fatto sei giri solo io Tempo 10.02 Il miglior tempo Ho perso il tempo Regale ai tempi Io per fortuna no Pensavo di essere ultimo Marco secondo Daniele terzo io quarto Ultimo Allora adesso entrate Fate un giro di ricondizione E vi fermate qui davanti Vi fermo io E vi do il posto in griglia Ok Ok Come si accende quindi? Freno Giro di ricondizione ragazzi E poi si parte Quinta posizione Dai Concentrazione Dove va? Latina Sagittario GPO Valigoldo Tutti pronti sulla griglia di partenza Semafori spetti Eccoli partiti Ci aiutano con i piedi E cassa A martello Ho un problema Ho un problema nel mio porto Funziona a metà Ogni volta che lo giro Sento un suono che fa E ogni volta che mi parte Cade imbarazzante Come quella volta Che stavo al sagittario Proviamo Le ovale Io dico Va bene Solo di quando ho fatto È una malattia È pericolosa Statemi lo sano Padrete anche voi Non so sesso Ma che Sopalettino Sono sempre a terra Come un cretino Non gratto il ginocchio Neanche piego Io non corro molto Ma Con il quad a bordo pista Andiamo a comandare Con l'omale sull'erpetta Andiamo a comandare Con le mani ingessate Andiamo a comandare Esco prima dalla curva Andiamo all'ospedale Andiamo all'ospedale Ho un problema nel mio polso Funziona a metà Ogni volta che lo giro Sento un suono che fa Io ho l'adrenalina Che gira come il sangue E cado come un deficiente E cado come un deficiente E attento L'erpetta Cascato Andiamo all'ospedale Andiamo a comandare Con le mani ingessate Andiamo a comandare Esco prima dalla curva Andiamo all'ospedale Non si attacca più come fa Quella Andiamo all'ospedale Andiamo all'ospedale La grotta alla tabonetta sinistra Destra cioè Andiamo all'ospedale